Ciao a tutti ragazzi e bentornati su questo canale. Tra di voi ci sono tantissime persone nuove, quindi faccio una mini presentazione veloce. Io sono Sonia, sono laureata in giurisprudenza, sto attennendo la data per superare l'esame di abilitazione della professione di forense. Sì, sono mezzo avvocato fallito e in questo canale parlo di diritto, costituzione, diritti civili, un po' di tutto quello che riguarda il mondo della giustizia. Per come è nel complesso, perché molto spesso viene trattata male, in maniera superficiale e da chi non è competente in materia, quindi non conosce la materia e quindi sostanzialmente commette degli errori grossolani. Vi invito a mettere like a questo video perché sarà un video molto interessante e anche diverso dal solito, perché non parlerò di un crimine, non parlerò di una vicenda di cronaca, non parlerò di niente che riguardi la riforma della giustizia, dei reati e quant'altro. Oggi vi parlerò di un libro, strano ma vero, e vi parlerò del libro di Stefano Nazzi, questo qui, Il volto del male, che è uscito effettivamente un paio di mesi fa a maggio e io ho letto, diciamo, a inizio luglio, prima di andare effettivamente anch'io in ferie e ho deciso di consigliarvelo perché sostanzialmente cosa c'è di meglio da fare quando si è al mare sotto l'ombrellone in piscina del leggere un libro o del fare le parole crociate e questo libro, secondo me, è il libro perfetto da leggere sotto l'ombrellone perché, come dice anche lui nella presentazione, vuole affrontare i diversi gradi di malvagità, quindi da dove nasce il male, infatti il libro si chiama appunto Il volto del male, da dove nasce il male e lo fa raccontandoci dieci storie di efferati assassini, sia delle vicende super conosciute, come ad esempio Il mostro di Firenze, sia delle vicende un po' meno conosciute. E lo fa con la sua solita cifra stilistica che l'ha contraddistinto anche con indagini, quindi raccontando tutta la vicenda senza lasciarsi prendere l'almotività, che è quella che prende la maggior parte delle persone che trattano di crime. Però il libro è diverso dal podcast di indagini, non è uno spin-off del podcast e non è un sostituto del podcast. Corrono su due binari separati e ognuno ha la propria vita. Sono collegati perché parlano entrambi di storie, di criminali, di assassini, ma il libro è molto più leggero. Vi racconta sostanzialmente, vi spiega cos'è successo e non si addentra ulteriormente, perché vuole lasciarvi il briciolo di curiosità per portarvi ad approfondire. Ci sono delle storie che ha già affrontato in indagini e quindi se ascoltate il podcast noterete la differenza rispetto al podcast in quelle storie come ad esempio la banda Ludwig o le bestie di Satana e altre che non ha trattato appunto nel suo podcast, non ancora perlomeno, e noterete poi la differenza. È un perfetto libro da leggere sotto l'ombrellone soprattutto perché essendo dieci storie raccontate separatamente potete tranquillamente leggerne una, saltarne un'altra perché magari non vi interessa capire o sapere quella storia o magari la conoscete già benissimo e andare sostanzialmente avanti. Potete interrompere il libro quando volete e riprenderlo dopo magari mesi. È il libro diciamo perfetto, secondo me. Quindi lui in questo libro diciamo che è rimasto essenziale, vi racconta appunto l'essenziale di ogni storia. Non va troppo nello specifico ma al tempo stesso non commette errori. Come vi dicevo prima non si è lasciato prendere la mano dell'emotività ma anche non si è lasciato prendere la mano magari dalle dichiarazioni, dal credere o meno ad una versione oppure all'altra. Quindi è rimasto sempre molto neutrale. Quindi per me è super consigliato e anzi se avete la possibilità di andare a vedere la presentazione del libro dal vivo ve la straconsiglio perché è anche utile ascoltare lui dal vivo che vi racconta il suo libro e le sue impressioni. Soprattutto se ascoltate anche il podcast che vi consiglio se non l'aveste già ascoltato. Affidare ad una voce che viene sentita un volto è sempre secondo me utile perché così riusciamo a recepire una persona, capire che quella persona è effettivamente reale. In più dato che lui è un podcaster che non vediamo in video qui c'è anche il suo grandissimo faccione e io da bimba ninazzi quale sono e da persona che adora il suo podcast perché è l'unico che è riuscito a inserire e non racconto crime cos'è l'incidente probatorio. Dubito che qualche podcaster che tratti di crime tipo l'isatro crime si metta a parlare di queste cose. Quindi assolutamente consigliato e eccolo qui. Io l'ho comprato ad una appunto ad una presentazione qui ho anche la mia bellissima dedica un po' più lunga del normale perché era il mio complanno quando sono andata alla presentazione e fatta questa piccola digressione mi invito di nuovo a comprarlo, potete prenderlo anche Kindle su Amazon come volete, assolutamente consigliato e ci vediamo al prossimo video che sarà sicuramente un pelino più impegnativo di questo. In tutto ciò potete seguirmi su Instagram, su Twitter, potete entrare anche nel mio gruppo Telegram dove do annunci, predico cose, vi racconto un po' tutti i retroscena di questo canale un po' all'incirca anche della mia vita e ci vediamo al prossimo video.